Se il Presidente della Repubblica dovesse avere delle caratteristiche di un personaggio letterario dovrebbe essere un personaggio non emotivo, non emozionante, perché quello non è il personaggio che può fare il Presidente della Repubblica, ma dovrebbe essere razionale, lucido, dovrebbe avere una specie di capacità di rappresentare l'idea razionale del Paese, l'idea migliore del Paese. Quando gli altri entrano in crisi lui è come se fosse l'eroe che mette a posto le cose nella maniera però più giudiziosa. Queste caratteristiche le disumono da un personaggio che già esiste e che è Sergio Mattarella, perché è quello che ha rappresentato in questi anni e in questo periodo di grande emergenza colui che ha avuto più lucidità degli altri e che ha fatto sentire a molti di noi, in tante circostanze difficili, l'appartenenza alla comunità. Senz'altro non dirò secondo me e farò un nome per il Quirinale perché l'Italia è il Paese dei secondo me. Però le caratteristiche che ha rappresentato Mattarella, soprattutto in un periodo così difficile che continuerà ad avere una emergenza, credo che debbano essere quelle che caratterizzeranno chi ci andrà. Quindi non è la persona ma cosa rappresenta.